Occupiamoci di questa fascistica della giornata del Dottorio d'Italia, del Dottorio d'Italia, del Dottorio d'Italia, con la... Alasco! Questo è un lavoro che hanno fatto ai nostri Stato in Cala, un lavoro più siciliano, abbiamo visto, stavano veramente... il pappello non sempre aveva ancora posto, sui compagni che stavano, che stavano lavorando sui posti. Anarche! E con due fili, la prima fila, tutta lì, la Dottorio d'Italia è stata in granissima, con unione, unissime! Perchè! Perchè! La Dottorio d'Italia, che si vogliate, che ci sono tutti i dati? Perchè! 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 E' un'altra cosa che vuole. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.